ciao benvenuto ben ritrovato sul mio canale benvenuto su questo nuovo video benvenuto su questa nuova serie comincia oggi la serie wwe 2k 22 my rise quindi la carriera con la superstar creata dal sottoscritto qualcuno di voi adesso si gli starà chiedendo ma come pack già porti il wrestling su twitch anzi sul canale viola e ci rompi i maroni anche di qua e bene sì my rise voglio portarli in entrambe le piattaforme soprattutto perché specialmente all'inizio c'è poco da interagire da poco da combattere ma più da guardare l'evolversi della storia praticamente la superstar nuova creata approda la scuola di wrestling quindi all'inizio è un pochettino più per intavolare tutto il resto della carriera poi potrebbe essere anche divertente sviluppare la carriera un po anche sul canale viola anche un po su twitch vediamo un po nel frattempo partiamo con qua su youtube poi vediamo un po come poter sviluppare il tutto ovviamente se deciderò di portare sia quasi youtube che anche su twitch il proseguo di questo my rise quello che verrà fatto sul canale viola poi verrà riportato anche di qua per completezza d'opera diciamo così allora cominciamo subito innanzitutto eccoci qua la nostra schermata che prevede anche il gioco questa è la home page di wwe 2k 22 cominciamo con la mia ascesa a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E da qua già si comincia a prevedere come sarà la superstar che andrò a creare. Difendiamo, anzi difendi l'ha detto la sicurezza o in colpo l'ha detto la sicurezza? Io siccome voglio essere buono lo difendo. Sicuro di se il ragazzo? Ok, presa la prima sciacquata di testa, adesso andiamo a creare la nostra superstar. Dobbiamo scegliere le origini, quindi MMA oppure atleta e qua vedi ci sono alcuni bonus tipo potenza braccia, potenza gambe, difesa sottomissione tecnica e poi sotto ci sono alcuni esempi tipo Bobby Lashley, Riddle, Brock Lesnar. Invece atleta abbiamo quest'altri percentuali di bonus di attributi e gli esempi sono Roman Reigns, King Corbyn, Goldberg e via discorrendo. Poi abbiamo invece indipendente Kevin Owens, Tommaso Ciampa, Drew Gula che insomma qua fa capire bene che tipo di wrestler sarà la nostra superstar in erba oppure attore tipo The Miz, John Cena o R-Truth. Io direi di scegliere la categoria attore. Ok, abbiamo creato il nostro personaggio, eccolo qua, si chiama Eric, Eric Draven. Nel frattempo continuiamo a vedere la storia. Stiamo parlando con il capo del reclutamento e qua, prima figura del me, ci sta, ci sta, ci sta. Piccola figura di cacca fatta e ci sta, ci sta anche questo, dai. Il nostro Eric Draven, vediamo se qualcuno di voi riesce a cogliere la piccola citazione, il nome è Eric Draven, il soprannome The Dragon, vabbè provenienza a Los Angeles, California e via discorrendo. Vediamo se qualcuno di voi nei commenti sa dirmi l'origine del nome che ho scelto e del perché soprattutto. È abbastanza semplice. Ok, qua siamo all'interno del Performance Center, qua su abbiamo il menu opzioni, dell'Hub la mia ascesa, questo è il menu dell'Hub, insomma possiamo usarlo per vedere la bacheca dei social e via discorrendo. Qua abbiamo i social media, potenziamo, possiamo potenziare i nostri attributi e tante altre piccole cosine da poter cambiare di volta in volta. Leggiamo i social, ovviamente siamo molto social come sempre, qua potremmo potenziare i nostri attributi, momentaneamente abbiamo poco da poter spendere, punti disponibili solo 5 e vedremo di tornarci più tardi quando avremo qualche buon punto da poter spendere per migliorare il nostro personaggio. Qua si può interagire con i vari personaggi che sono presenti in questa sessione, quindi Hector Flores, Paragon J. Pierce, vabbè adesso possiamo interagire con loro. Cominciamo da Hector, sentiamo cosa ha da dirci. Grazie, voglio essere simpatico con lui, mi sta simpatico Hector. Lui viene dal Messico, in Messico dice che il wrestling è una tradizione. No, dove sono andato, tu sei sia stato il wrestling o il football. Scusa, il soccer, ho scelto il wrestling. Vediamo, diciamo che noi siamo sempre stati appassionati di wrestling. Ricordiamo che il personaggio è un ex attore, un attore insomma, che si sta cimentando nel mondo del wrestling. In cerco di una sfida voglio diventare più grande di The Rock, pensiamo in grande. Giustamente. Ci siamo lasciati in maniera un po' piccantina con il buon Hector. Adesso possiamo parlare con Paragon J. Pierce, l'unico con cui possiamo interagire. Questo qua già mi sta un po' sulle balle, devo dire. E tu chi sei? Ma, 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 ma chi sei tu? Ma che cavolo? Eh, questo, questo già mi sta sulle balle. Paragon J. Pierce. Questo, ragazzi, mi sta veramente sulle balle. Penso e credo che già avremo un rivale anche prima di cominciare. Non male, non male. Ehm, caro il mio Paragon, te parli parli, ma mi sembra che concludi poco. Ah, addirittura. Questo qua, ricordo, mi sta veramente sulle balle. Sì, 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 sì. Diciamo che partiamo male. Ci è rimasto il solo Chase, e quindi interagiamo anche con Chase. Chi sei, caro amico Chase? Ma questo perlomeno ci conosce... Sei un arbitro? Non mi ispira molto come wrestler, effettivamente. Ok, previene dal baseball. Faceva la mascotte. Chase mi sta simpatico. Oh, ok. Well, that counts for something, I guess. The best part of the job was they used to have indie wrestling shows at the stadium all the time. Ok, praticamente è arrivato qua, grazie a Jerry the King Lawler, storico wrestler, nonché commentatore WWE. Non voglio essere cattivo con il buon Chase, mi sta simpatico. Vuole un autografo prima di andarsene? Perché? Ma pensi che non resterò qui a lungo? Ma, ma dai, Chase, su, fai il bravo. Non faccia fotografie le mascotte. Ok, qua abbiamo Michelle Axelrold che ci dice Buona fortuna per il tuo primo giorno, ricorda la WWE è proprio come Hollywood, devi emergere dal gruppo e fare il possibile per farti notare. Non ti dà cadere di essere un tutore per due settimane dopo quella serata? Sì, ok, è la nostra agente. Allora, qua cominciamo a decidere un po' il personaggio. Se sarà face o sarà ill. Qui dipende molto cosa rispondo. Voglio fare il bravo bambino e quindi risponderò che mi guadagnerò il rispetto di tutti. Siamo adesso di fronte a Road Dogg e Shawn Michael che ci danno il benvenuto al PC Center. E Chase ci spiega un po' di cose. Ripeto, Chase mi sta abbastanza simpatico. Ci dicono che ci sono delle telecamere che praticamente sono puntate sul Performance Center giornalmente, quindi i piani alti vedono un po' lo sviluppo di queste nuove super, anzi aspiranti superstar. Ok, vogliono farci fare alcuni match uno contro uno per poter testare le nostre capacità e adesso tocca a me scegliere l'avversario da poter sfidare. Paragon J, Chase o Hector Flores? Io vado per Hector Flores. Voglio sfidare Hector Flores. Ok, dobbiamo lottare contro Eric ma la registrazione per oggi finisce qua. Il video sta andando un po' troppo per le lunghe quindi ce la vediamo con Eric alla prossima puntata. dobbiamo mostrare appunto ai vari istruttori del Performance Center, Road Dogg e Shawn Michael quello che sappiamo fare. Il video per oggi finisce qua spero che vi sia piaciuto. Iscriviti al canale, lascia un mi piace, un commento e gli altri miei social. Insomma, ci vediamo al prossimo appuntamento con WWE 2K22 My Rise. Grazie a tutti.